Bernie Sanders e Hillary Clinton si scontrano a Flint nel Michigan, teatro dello scandalo dell'acqua tossica e si trovano d'accordo almeno su una cosa, chiedere le dimissioni del governatore. Ringaluzzito dalle vittorie in Nebraska, Kansas e Maine, Sanders poi ironizza. Se eletto presidente investirò molto nelle cure per i problemi mentali e quando guardate i dibattiti dei repubblicani capite perché ce n'è bisogno. Sanders torna a criticare Clinton per i suoi appoggi nel mondo finanziario. Lei risponde accusando Sanders di non aver fatto abbastanza contro le armi e aggiunge Credo fermamente che dare l'immunità ai produttori e ai venditori di armi sia stato un terribile errore perché ora non devono più rendere conto del proprio operato. In Michigan le primarie democratiche si tengono questo martedì Senato Sanders.